Ancora niente stipendi per i lavoratori del cantiere di Pagani del consorzio di Bacino Salerno 1. Nonostante le rassicurazioni del commissario Fabio Siani, che proprio ieri alla nostra emittente aveva annunciato l'imminente pagamento dello stipendio di marzo, stamane una rappresentanza delle maestranze del cantiere di Via Filettine ha tenuto a denunciare che nessun accreditamento è stato posto in essere. Tra l'altro i lavoratori hanno sottolineato che il mancato pagamento deriva non da un ritardo nel passaggio delle cifre previste al consorzio da parte del comune di Pagani, ma di altri enti insolventi. In particolare, ad essere manchevole sarebbe il comune di Cava dei Tirreni. Abbiamo sentito telefonicamente il sindaco della città di Sant'Alfonso, Salvatore Bottone, che ha detto «Ho sentito più volte Siani e mi ha assicurato che lo stipendio di marzo sarà erogato a breve». I soldi ci sono, si tratta soltanto di un ritardo tecnico, ha concluso Bottone. In soldoni, il comune di Cava dei Tirreni avrebbe pagato in queste ore quanto dovuto al consorzio, ma l'istituto bancario preposto avrebbe comunque bloccato il passaggio degli stipendi per via del mancato arrivo dei fondi nei termini previsti. Insomma, un'anomalia poi. Il consorzio ha disatteso anche quelle che erano state le direttive venute fuori durante l'ultimo vertice tenutosi a Salerno in prefettura. In quella occasione si arrivò ad un accordo. Sarebbero stati pagati nei termini previsti, cioè tra il 5 e il 10 di ogni mese, i lavoratori dei cantieri di quei comuni che avrebbero pagato a loro volta al consorzio la retta concordata. Il ritardo di una settimana circa ha quindi portato alla protesta, sfociata poi nel rifiuto di effettuare lo straordinario, nei giorni di festa per la Madonna delle Galline.